Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi, come da titolo, parleremo di robot. E prima che qualcuno di voi mi faccia notare il titolo clickbait, beh, fermi tutti, sappiate che la robotica viene già utilizzata in determinati settori ed è chiaro che verrà sempre più utilizzata in futuro. Lo scopo di questo video è farvi vedere quanto rapidamente si evolve la tecnologia e che quindi quel futuro che pensavamo essere remoto in realtà è molto più vicino e fare delle considerazioni, ovviamente, in tema con il mio canale. Ma da prima passerei subito a farvi vedere la presentazione di questo nuovo robot che si chiama Figure One per poi commentare la performance. Hey Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great, can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it, so I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great, so based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great, can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Quella che avete appena visto è la demo ufficiale di Figure caricata 13 giorni fa, il 13 marzo, sul loro canale YouTube. Ve la inserirò in descrizione sotto il mio video così che potrete recuperarla. Allora, cercherò anche di fare un po' di traduzione per chi non mastica l'inglese, ma lasciatemi da prima dire che in molti hanno reagito a questa demo pensando che si trattasse di un fake. In realtà c'è poco da gridare al fake. Da un lato basta vedere le ingenti quantità di denaro che sono state investite da parte di più soggetti su questo prototipo e dall'altro basta vedere a che livello di tecnologia, di ingegneria, siamo arrivati guardando altrove. Ad esempio, il robot di Tesla, che se non ricordo male si chiama Optimus, ha dei movimenti che sono anche più naturali, più fluidi, più umani rispetto a quelli che abbiamo visto in questa demo. E sappiamo anche che a livello di intelligenza artificiale e di riconoscimento tramite camera di ciò che si vede siamo anche abbastanza avanti. Allora, da cosa partiamo? Intanto vi faccio notare che la velocità del filmato è 1x, quindi la demo non è stata velocizzata in alcun modo. mi ci sto soffermando perché su altri video di robot in realtà c'è stato bisogno di velocizzare il tutto per non stare ad aspettare i tempi di reazione del robot. Questo robot evidentemente processa i dati in modo abbastanza veloce. C'è comunque un lag, lo avrete notato. Va bene, ma il filmato non è stato velocizzato. Stiamo vedendo una demo in velocità naturale. Va bene, allora, di cosa si è trattato? Cosa è riuscito a fare questo robot? Intanto è stato in grado di descrivere ciò che vede tramite la camera. Ha detto che vede una mela rossa, dei piatti sul tavolo e questo signore con la mano appoggiata sul tavolo. Poi lui ha chiesto mi puoi dare qualcosa da mangiare? E il robot dopo un paio di secondi ha passato la mela perché è l'unica cosa commestibile presente su quel tavolo. Dopodiché gli è stato chiesto beh, sai che c'è? Raccogli questa spazzatura e nel frattempo chiedimi e nel frattempo dimmi perché hai fatto ciò che hai fatto? E lui anche in modalità multitasking mentre esegue questo ordine spiega che gli ha dato la mela perché la mela è l'unica cosa commestibile che era lì presente. Dopodiché gli è stato anche chiesto di fare una previsione in base alla scena che vediamo gli è stato chiesto dove che pensa che andranno a finire questi piatti e lui ha detto appunto sul come si dice in italiano sull'asciugatrice sull'asciugapiatti insomma. Va bene niente infine gli chiede anche come pensa di aver svolto questi lavori e la vediamo che la risposta è sì penso di aver fatto tutto bene ma nella risposta vediamo che il robot ha anche una forma di memoria perché va a tirare fuori il fatto di aver dato la mela quindi fa accenno alla mela ai compiti che ha appena eseguito come se avesse una memoria quindi una performance sicuramente notevole che ci fa capire quanto velocemente evolve la tecnologia ormai veramente si tratta di grandi notizie grandi passi in avanti mese dopo mese e quindi traete voi le vostre conclusioni qualcuno di voi probabilmente sarà anche spaventato un po' un po' per ciò che si vede nei film pensiamo ad esempio a Terminator è un po' per il fatto che questi robot inevitabilmente verranno sempre più impiegati in ambito lavorativo e quindi rubando il lavoro a noi esseri umani come si dice apro anch'io una breve parentesi al riguardo io dico che questi robot sicuramente avranno la loro utilità da un lato potremo abbassare i prezzi dei prodotti dall'altro potremo salvare vite umane perché far fare all'essere umano lavori pericolosi quando esistono i robot però è anche chiaro che il costo di un robot stesso andrà sempre a scendere quindi arriveremo ad un punto in cui converrà impiegare un robot al posto di un essere umano e a quel punto l'essere umano perderà il suo posto di lavoro secondo me passeremo inevitabilmente ad una fase del genere per poi magari decidere che sa di non lavorare affatto di utilizzare questi robot come se fossero i nostri nuovi schiavi e quindi dedicarci ad altro comunque il mio è un canale dedicato a GNU Linux e al software libero ed è proprio di questo che vorrei parlarvi allora io vorrei fare due appelli alle nuove generazioni il primo appello è un po' quello che si faceva quando sono cresciuto io e si parlava dell'importanza delle due i dove una i è l'inglese e l'altra è l'informatica ovviamente però si parlava dell'importanza di queste due i un po' per gli sbocchi lavorativi che sono in grado di aprirti io invece mi rivolgo alle generazioni future dico a loro di aprirsi alle nuove tecnologie di imparare un po' l'informatica non è che tutti dobbiamo diventare degli ingegneri informatici però è bene capirne un po' saperla utilizzare non per gli sbocchi lavorativi ma per il fatto che ormai l'informatica andrà ad occupare uno spazio sempre più predominante nelle nostre vite è impossibile pensare alla vita umana alla società senza informatica ad una medicina ad una ricerca eccetera eccetera quindi assolutamente imparate un po' l'informatica va bene questo è il primo appello qualcuno probabilmente dirà ma guarda le nuove generazioni già nascono con la tecnologia in mano ovviamente sanno utilizzarla beh insomma dipende se questo significa sapersi fare un paio di selfie e andare sui social TikTok Instagram eccetera beh non sono d'accordo bisognerebbe impararla un po' più a fondo ovviamente va bene il secondo appello e imparate a richiedere a pretendere i vostri diritti anche in ambito informatico in un mondo sempre più tecnologizzato è chiaro che i diritti in ambito informatico diventano sempre più importanti di cosa sto parlando beh l'utilizzatore finale di un determinato prodotto dovrebbe avere il diritto di utilizzarlo per come vuole deve essere lui a comandare ad usare la tecnologia e non ad essere usato dalla tecnologia non è possibile affidare il controllo finale di un qualcosa di informatico ad una qualche multinazionale a qualche agente esterno e questo vale per te che sei un utente privato vale per una istituzione io sinceramente non mi sento a mio agio se una istituzione si affida a qualcosa di esterno se il controllo è affidato a qualcosa di esterno e non all'istituzione stessa pensate ad uno stato che si lascia in pratica controllare da uno stato esterno va bene questo è il mio secondo punto il mio terzo punto è che se la tecnologia acquista un ruolo sempre più predominante non si può parlare di libertà senza il software libero prima lo capiamo e meglio è niente questo è tutto ah si beh vi faccio un esempio io sinceramente non riesco nemmeno a fidarmi di un tostapane diciamo che sia a tecnologia proprietaria e connesso ad internet figuriamoci se potrei fidarmi di un robot a tecnologia proprietaria e connesso ad internet voi riuscite a vederne i pericoli anche voi cosa ne pensate va bene questo è tutto io vi saluto scrivetemi la vostra nei commenti ciao ciao